buonasera questa è la stazione di k 0 x e z salvatore stiamo cercando di ricevere saq la stazione di agreement on svezia leggermente sfasato il la frequenza 17.5 ma dovrebbe essere 16.5 più meno stiamo tentando qua di riceverla con due antenne diverse una mini whip in questo momento e qui fuori ecco qua alla porta abbiamo il fantastico lupone di salvatore che vi ho parlato prima lupone di un metro e mezzo per lato con il variabile qui direzionato verso la zona nord qui e notte già siamo già alle 19 e 45 locali quindi già iniziata la trasmissione di prova di test di saq però fino adesso riceviamo ben poco stiamo cercando di provare le due antenne la mini whip e il lupone qui per sintonizzare meglio la stazione questo è un grande ricevitore le k di 300 un ricevitore navale non si riesce ancora a sentire nel codice morse del messaggio stiamo tentando in un pochettino di ricevere saq mette in cibo doppio adesso poi magari restringono filtro la frequenza e ripeto leggermente spostata di un chilo e mezzo più o meno rispetto ai 16 e mezzo che di saq ma che sembra degli splatter delle scriventi testa solo l'emittente adesso di per vedere se 738 vai ecco qua segnalo orario questo è dcf segnale orario segnalone 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 segnalo andiamo più giù andiamo a vedere l'altro segnale un po spostato per questo quello 60 dovrebbe essere un altro dcf russia 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 si quasi se manda la nota che scendiamo più giù vediamo al 17 chilo verso cosa succede ecco qua niente scende più giù provo provo forse a 15 anni spazzolando siamo al limite delle blf very low frequency frequenze bassissime siamo sui 15 16 chilo il lupone fuori dalla finestra però sembra negativo però sembra negativo non riusciamo a ricevere saq purtroppo però è bello lo stesso il tentativo guardiamo un altro vostro lupone questa è la camera operatoria di salvatore eccolo qua purtroppo non riesciamo a a sintonizzarlo la meglio è guardate qui un po tutto appeso dobbiamo lavorarci un po di più e notte fonda già va bene salvatore non preoccuparti non disperare è andata bene lo stesso anche solo vedere in funzione questi mitici ricevitori di un tempo niente purtroppo niente 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 signori niente fa niente alla prossima allora buona salva a tutti da saq qui purtroppo non siamo riusciti a ricevere il segnale di questa mitica emittente grimeton in svezia ok un saluto salvatore qui xz alla prossima e alla prossima ragazzi anche da me ciao ciao sono rimasto assai sono rimasto assai le usa per la Grazie a tutti.